Un mazzo di fiori bianche e rose rosse per festeggiare un compleanno davvero speciale per la signora Lucia che ha compiuto 101 anni. Lucia Graziana, nata a Nervesa della Battaglia il 28 agosto del 1923, è una delle ospiti del Centro Servizi Anziani Mantegna di Campodarsego. Sposata con Gino Ballotto, ha vissuto a Campo San Piero e ha avuto due figli, Franco e Patrizia, che hanno festeggiato il compleanno con la mamma. Lucia ricorda ancora quando con la cugina si nascondeva a Treviso per paura delle bombe della Seconda Guerra Mondiale. Per anni ha fatto la sarta, ora i suoi passatempi sono giocare a carte, a tombola, leggere romanzi e guardare film. Sempre sorridente e simpatica, non si perde una messa e si rende sempre utile con piccoli servizi in comunità, come piegare le tovaglie. Tanti auguri Lucia che a 101 anni non ha disdegnato un bicchiere di vino per brindare allo splendido traguardo. Tanti auguri Lucia che a Grazie.